A Palazzo Bourbon è stato siglato un accordo di collaborazione tra il Comune di Monte Santa Maria e l'Università del Texas, che porterà alla realizzazione di corsi di studio e di importanti scambi culturali. Abbiamo sognato, io sono del Texas, sono 30 anni che sono qui in Italia, sono venuta per studiare moda, arte e alla fine sono rimasta qui e ho avuto sempre l'idea di unire due mondi, sia gli Stati Uniti che l'Italia, specialmente concentrandosi nei miei studenti perché io ho avuto un'opportunità immensa lavorando con professori, con maestri, artigiani. Io l'ho trovato non un'opportunità, ma di più e questa stessa idea è sempre stata dentro di me, da cosa è nata cosa e oggi ci troviamo a firmare un contratto, unire questi mondi e trasformarsi, creare, sognare. Siamo qui per fare esperimenti dentro la camera oscura, la camera oscura che usa lo stesso sistema di lenti e di specchi utilizzato generalmente dal Caravaggio. Abbiamo fatto molti abbozzi a BH, sia di natura e morte che di ritratti dei ragazzi con attributi caravaggeschi, con l'uva o con il violino o con il calice di vetro. Poi i ragazzi hanno imparato a mettere sulla boccia BH le prime forme volumetriche con l'utilizzo del nero e poi hanno iniziato a applicare strati a colore in alcune zone soltanto a olio e in alcune zone anche con velature a vernice. Tutto questo è parte di un programma di collaborazione che in futuro porterà il comune di Monte Santa Maria Tiberina e l'Università del Texas a far correre corsi di arte, di musica e di letteratura con un ritmo costante.